Buon cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 13 settembre 2019. Siete in diretta sul canale 17 di Fano TV e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali. Vediamo subito il santo del giorno, poi le previsioni del tempo ai giornali. Oggi la chiesa cattolica ricorda San Giovanni Crisostomo, nacque probabilmente nel 349 ad Antiochia, nell'attuale Turchia, da una famiglia aristocratica. Il sole sorto alle 6.44 tramonterà alle 19.24. Salutiamo anche tutti quelli che ci seguono attraverso i social network, sto guardando in questo momento la diretta su Facebook, diamo anche qualche mi piace. Allora, previsioni del tempo della protezione civile per la giornata di oggi, venerdì, avremo come vedete dalla grafica cielo sereno su tutta la costa adriatica. Le temperature saranno stazionari ai venti di brezza tesa settentrionale, il mare poco mosso. Fine settimana soleggiato su tutta la regione con temperature senza variazione di rilievo, il mare sarà poco mosso, ancora un po' di venti di brezza tesa da settentrione. Per domenica, 15 di settembre, avremo cielo sereno o poco nuvoloso per un transito di velature, le precipitazioni non ci saranno anche se sono presenti le nuvole, le temperature in lieve aumento, ancora venti da settentrione, il mare sarà poco mosso, indicazioni di tempo stabile, secondo la protezione civile delle Marche, per lunedì con possibile temporaneo peggioramento per la giornata di martedì a causa di un transito, il transito di una saccatura però con successivo miglioramento. Quindi soltanto un po' di pioggia, forse martedì, ma ne riparleremo sicuramente la prossima settimana. Adesso invece andiamo a leggere i titoli delle notizie più importanti, come sempre sul nostro touchscreen, ci sono le edizioni di Pesaro Urbino, del Corriere Adriatico e del resto del Carlino e quindi andiamo subito a vederle. Questa è l'apertura del Corriere di Pesaro. La torre, quella panoramica, alle ore contate, si smonta tutto in anticipo. Infatti un'ordinanza, via i lavori di due settimane prima del previsto, il cantiere comincerà già lunedì. Si è chiusa dunque ieri sera con i fuochi d'artificio la fiera di San Nicola che ha registrato, secondo i dati degli organizzatori, circa 230 mila visitatori nei tre giorni. Intanto è stato ufficializzato lo smantellamento della torre panoramica con due settimane di anticipo, come riporta un'ordinanza comunale emessa nelle ultime ore di ieri pomeriggio. A centro pagina invece la fotonotizia è per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che sono stati immortalati insieme. Tra l'altro lui è anche il cugino dell'ex di Federica, il cugino dell'ex Magnini ed è anche il suo allenatore. Giunta e il suo allenatore insieme sono stati fotografati sorridenti. Ex Amga si parte con il ripristino della recensione con la bonifica. E poi la novità, ordini il piatto al ristorante, ti arriva a casa in bicicletta, da oggi a Pesaro parte il servizio di consegna Deliveroo. Sperimentazione in nuove città, già impiegati, dieci riders, cioè dieci di quelli che portano e pedalano e sudano. Poi la pagina di Pesaro del resto del Carlino, intanto la notizia che arriva da Fano, Beato Antonio, eccola qua. Svolta, trovata la bara, il giallo di finestrata è risolto. Adesso bisogna vedere però chi c'è dentro quella bara di zinco che vedete qui, ve la cerchio anche perché si confonde con il colore dei mattoni. Eccola qua, è stata trovata. È stata trovata, adesso bisognerà aprire e vedere chi c'è dentro. Traffico di doping, porcellini scagionato dall'accusa più grave, ecco le motivazioni, nessuna prova. E poi la cronaca, uccido gli stranieri, preso con il coltello, caccia all'uomo, un pesarese bloccato in via Flaminia e portato in ospedale. Anche sul resto del Carlino, il gossip di Federica e Matteo Giunta, prima uscita sul red carpet. Poi la festa nazionale a Fano, per la prima volta, festa nazionale, non quella locale. Locale si teneva una volta nel quartiere, se non ricordo male, di Rosciano, ma è nazionale. Tutti i socialisti d'Italia si ritroveranno, soprattutto quelli che fanno politica a Roma, si ritroveranno a Fano. Oggi l'ospite è Speranza. Bilancio della fiera di San Nicola, finale con il pienone. E allora, eccola qua la notizia del giorno, almeno per i fanesi. La barra c'è davvero, Beato Antonio, svelato il giallo dell'estate. Guardate queste fotografie, a vederle, a guardarle, a fermarci sì un attimo, qualche secondo, fa venire la pelle d'oca. È stato svelato, almeno in parte, questo giallo, come dicevamo, di fine estate. Quello qualche colpo di piccone, poi è crollato il muro che celava la bara in zinco, nella quale dovrebbe esserci il corpo mummificato del Beato Antonio. La bara è chiusa ermeticamente, dovrebbe essere quella del Francescano vissuto nel XV secolo, sconosciuto ai più e di cui non è neppure certa la beatificazione. Comunque, è lì, è stata ritrovata, ieri pomeriggio, nascosta tra le due pareti che dividono Santa Maria Nuova e l'ex convento dei frati minori della provincia Picena della Marca, che tra l'altro è stato ceduto ai privati per farne degli appartamenti. Quanto dunque aveva scritto padre Silvano Bracci, tra l'altro anche in un libro edito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in quel volume padre Silvano racconta che quel corpo, tutto intero, fu tolto e murato verticalmente all'inizio della parete destra della chiesa nel vano tamponato, di un passaggio che immetteva nell'attuale convento e a padre Silvano Bracci chi glielo ha raccontato? Lo avrebbe raccontato personalmente nel 1958 l'allora custode di Santa Maria Nuova, padre Francesco Talamonti, artefice appunto di questa operazione. Il perché lo leggete sull'articolo che ha scritto oggi Anna Marchetti sul resto del Canino, cioè il perché si è finito lì, perché è finito qua dentro. E sotto invece si parla di altri scheletri ritrovati a Monte Maggiore al Metauro, potrebbero risalire al 500, al 600, l'ipotesi che fossero scheletri di una fossa comune. Ancora su questo argomento dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico, trovata la barra murata del Beato, l'apertura davanti al magistrato, confermate le indicazioni dell'ex priore di Santa Maria Nuova, l'emozione dei presenti. Dunque il Beato Antonio da Fano è lì dove aveva indicato l'ex priore padre Silvano. Ieri gli operai della ditta che stanno ristrutturando il convento dei frati francescani hanno abbattuto il muro che nascondeva l'intercapedine in cui era stata riposta questa barra alla fine degli anni 50, al tempo di importanti lavori effettuati all'interno della chiesa dall'allore priore Talamonti. E la barra è stata ritrovata proprio al suo posto, adagiata in senso orizzontale. Adesso per la verifica finale saranno presenti anche i tecnici dell'Asur e l'intervento verrà fatto in giornata. Poi che fine farà? Non si sa. Bisogna capire i permessi, la volontà di intanto chi c'è dentro, se è beato oppure no e poi una collocazione bisognerà certamente trovarla. Se è un beato chiaramente dovrebbe, secondo a mio modesto parere, stare dentro la chiesa e quindi in una zona ben visibile e che sia disponibile anche ai fedeli. Servizio civile alla Caritas, disponibili dieci posti, finanziati due progetti per sei addetti al disagio adulto e quattro della Sala della Pace. Poi dalla pagina di Fano, studenti distribuiti in cinque edifici, gli allievi del Nolfi inagibile, accolti dagli istituti Volta, Olivetti, Apolloni e Gandiglio. Una parte sarà sistemato a Palazzo Marcolini. Oggi le assegnazioni di sezioni e di classi. Vertice ieri pomeriggio in provincia. Pesaro con tecnici e amministratori, pubblici e presidi. Quattro secoli di storia per la Darsena Borghese, siamo alla zona della Liscia vicino al porto di Fano. Programma di eventi dei marinai d'Italia, custodi del manufatto. Coloro che hanno salvato la Darsena Borghese dal degrado, in cui era stata lasciata lentamente a decadere e ora la valorizzano, diffondendone la storia e continuando ad operare per rendere ancora più attraente questo bellissimo angolo di Fano, davvero bello, sono i componenti dell'Associazione Marinai d'Italia, che guidati dall'ammiraglio Pio Bracco, sono diventati i custodi di questo antico manufatto, la cui costruzione risale al XVII secolo, completato nel 1619. Ora la pagina di Fano, anzi di Pesaro, primo piano dell'arresto del Callino. Sempre a proposito delle scuole, di questi studenti sfollati, intervengono i tre vescovi delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. I tre vescovi in campo dicono ridare dignità ai docenti e basta burocrazia. Piero Coccia, arcivescovo di Pesaro, Trasarti di Fano e Tani di Urbino, scrivono questo messaggio congiunto. L'educatore, dicono insieme, deve essere competente, qualificato e ricco di umanità e valori, non solo enunciati, ma testimoniati. Scuole sicure contro lo spaccio di droga, il prefetto di Pesaro e Urbino, La Polla, incontrerà i presidi. Festa dei socialisti, siamo ancora a Fano, parata di big in città, tre giorni di lavoro a Marina dei Cesari, oggi arriva il ministro Roberto Speranza. Si apre dunque oggi pomeriggio la Festa dei socialisti, in programma fino a domenica 15 al porto turistico di Fano, Marina dei Cesari, una carmessa di tre giorni, che porterà in città politici nazionali e internazionali, come il ministro della Salute Roberto Speranza. E poi i presidenti di regioni Emilia Romagna, Campania, eccetera, eccetera. Quindi saranno tre giorni importanti per la politica. Gli studenti del Nolfi verranno divisi in cinque scuole, la decisione è presa ieri nella riunione in provincia, coinvolti Olivetti, Volta Gandiglio e le due sedi della Polloni. Mentre sempre sulla questione del Nolfi, Pollegione di Nuova Fano invita a mettere la questione in mano alla procura. Caro Speranza, ora serve discontinuità. Auspici della sinistra per Fano e Ruggeri del Movimento 5 Stelle si rivolgono al ministro della Salute, che oggi sarà, come abbiamo visto, a Fano. Sotto accusa i progetti dell'ospedale unico a Muraglia, con project financing e della clinica privata. Messe in evidenza le criticità del programma voluto dal governatore del PD Ceriscioli. Il nuovo centro-sinistra alla festa nazionale del Partito Socialista. Il dibattito alle 18 aprirà tre giorni di confronti. Arrivano anche Bonaccini e Bobo Craxi. I giudici, indagini oltre i limiti su Filippo Magnini. Nella sentenza Porcellini, il magistrato, ritiene fuori misura intercettazioni e sospetti. Quali sono le responsabilità dell'ex nutrizionista, colpevole di acquisti proibiti? È stato prosciolto invece dall'accusa di aver venduto farmaci dopanti. E poi l'altra notizia che riguarda il gossip, la divina, terribile questo modo di definire Federica Pellegrini, che è sì una bella creatura, ma divina, lasciamo stare. Matteo Giunta, che è il suo allenatore, da allenatore ha finanzato. C'è un punto interrogativo, ancora non è stato ufficializzato, però c'è questa foto di Galeotta, il Galà del Nuoto, di questa nuova coppia. Poi c'è la cronaca invece sulla pagina delle Marche del Corriere Adriatico, che ci porta a Senigallia. Fuori dall'ipermercato scoppia una lite per i gatti, poi scatta addirittura l'investimento con l'automobile. Ora, è tutto da chiarire, però in sostanza è successo questo. Allora, intanto i protagonisti di questa vicenda. Due senigalliesi, un 43enne che è addetto alle pulizie e un 55enne, che come dicevamo, anche lui, di Senigallia, che a un certo punto, tutte le mattine, va lì vicino al parcheggio, vicino al canneto, a dar da mangiare ai gatti. Ora, l'addetto alle pulizie, in varie circostanze, lo avrebbe invitato a non farlo. Perché? Perché poi doveva pulire lui tutto quanto. Però il 55enne aveva continuato, ha continuato in perterrito a portare il cibo a questi gatti, è tornato anche ieri mattina ed era lì dunque per lo stesso motivo. A un certo punto però è successo un problema, che questo uomo, il 55enne, sostiene che sia stato un incidente, perché c'è stato un incidente con la macchina, questo rimacchia, avrebbe investito questo addetto alle pulizie. Il 43enne, visti anche i precedenti, crede però poco alla casualità, come ha riferito ai vigili. E quindi lui sostiene che l'omino dei gatti ha messo sotto l'omino delle pulizie. E quindi, insomma, adesso la pulizia sta cercando di capire dove sta la verità. La cronaca di Senigallia, invece, dal resto del Carlino, i parenti delle giovani vittime si schierano contro Sfera e Basta, che dice sbaglia ancora sulla questione della Lanterna Azzurra. Il giurato di X Factor è stato criticato per le sue parole. Sapete, Sfera e Basta è stato scelto come giudice in questa nuova edizione di X Factor. C'è una pagina Facebook, un gruppo, anzi Facebook, che si chiama Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra, tra cui ci sono anche diversi parenti, familiari delle giovani vittime. Ebbene, il resto del Carlino scrive, per esempio, che Francesco Vitale, il fratello di Benedetta, una delle sei vittime della strage, penso che inserirlo nella giuria sia stata una trovata pubblicitaria. Non sono mai stato un fanatico di X Factor ed ora che hanno messo lui mi interessa ancora meno. Poi, dice ancora, l'11 dicembre, quindi tre giorni dopo, ci ha fatto avere una lettera dove scriveva che gli avrebbe fatto piacere incontrarci, ma non si è più fatto sentire, conclude Francesco, il fratello di Benedetta. A schierarsi contro le dichiarazioni di Sfere Basta, ieri in conferenza stampa, ieri l'altro, insomma, quando c'è stata la conferenza per la presentazione di X Factor, si è schierata anche Donatella Magagnini, che è la mamma di Davide Pongetti, un'altra delle vittime, e che dice, ecco, dopo questa dichiarazione si è riconfermato nella sua imbecillità, scrive sempre sul gruppo, non ha fatto nulla, e la lettera che ci ha mandato dopo due giorni l'ha sbattuta tale e quale sui social. Non meriti considerazioni, dice ancora. Donna si infortuna lievemente, torniamo sulla provincia di Pesurbino, sul Corriere, sul resto del Carlino, però arriva l'elieambulanza, è successo a Caglia, ha avuto un infortunio in casa, si è fatta male ad un braccio, è bastato dire questo, ossia evidenziare un problema vascolare perché si alzasse in volo. Ieri pomeriggio a Dancona un elicottero per correre a Cagli, atterrare il campo sportivo e caricare a bordo questa donna di 60 anni che in maniera quasi sbalorditiva si è vista portare in volo a Dancona per valutare la ferita. Come dire, addirittura l'elicottero, però ci sono dei protocolli da seguire e quindi di conseguenza non si sfugge, anche se magari tanti, diremmo per fortuna, spesso succede che vanno in elicottero e poi il giorno dopo tornano a casa con le loro gambe, quindi insomma, però va bene lo stesso, l'importante è essere seguiti e guarire. La Fiera chiude quota 230.000 e a sorpresa si smantella la torre. Dopo il successo delle bancarelle in zona mare, è lo smontaggio anticipato di quasi due settimane. Questo è sul Corriere Adriatico. Sotto invece il taglio basso entra in tribunale a Pesaro con un coltello e è stato bloccato dal vigilante. Un pesarese di 58 anni che finisce in caserma e adesso rischia una denuncia perché l'allarme ha suonato al suo passaggio, la guardia giurata della Fenice Security Service gli ha chiesto gentilmente di verificare cosa avesse addosso, che faceva scattare questo segnale acustico nel metal detector ed è emerso che aveva questo coltello che una volta aperto misurava 19 centimetri. Sull'ex AMGA, sempre dalle pagine di Pesaro, si parte con il ripristino su Via Morosini e entro dicembre sarà battuta la vecchia recinzione del cantiere e poi a Urbino, se mi vorranno, collaborerò con la città. Il direttore del Palazzo Ducale, Peter Aufreiter, conferma che lascerà il 30 novembre, quindi conferma la sua partenza da Urbino. Il ritorno del ministro Franceschini, che lo ha voluto alla direzione della Galleria Nazionale delle Marche nel 2015, non lo fa tornare indietro dalla sua decisione di lasciare l'Italia allo scadere del suo contratto il 30 novembre prossimo. Poi, sempre da Urbino, in periferia, Ponte Armellina al buio, protesta dei Cinque Stelle, gli abitanti convivono con impianti obsoleti o addirittura vandalizzati, c'è qualcuno che spara ai lampioni, che tira ai lampioni con le fionde. Le vie praticamente sono al buio. La situazione è peggiora, per noi l'amministrazione si è proprio distratta, parliamo appunto delle periferie. Sempre da Urbino, però dal Corriere, il Raffaello, parliamo di scuola, ha trovato tre sestemazioni. Oggi si decide la divisione delle 32 aule tecnico-economico, linguistico-classico dislocati tra Piazza Repubblica, collegi e pieve di Castelcavallino. La matematica Servadei vince il Wong 2018, premiata con 10.000 euro per l'articolo scientifico pubblicato su una rivista. E poi le associazioni sportive, sempre da Urbino in Passarella, Borgo Mercatale diventerà una grande piazza per tutti gli sport amati dai giovani. Un appuntamento per il 21 e 22 settembre con un concerto con Paolo Delbianco, Leone e Arco Packing. Sono iniziative realizzate da questi giovani che hanno organizzato questo evento che si intitola Street e Sport. Poi c'è il barometro dell'Istituto Serpieri che controlla, analizza tutti i dati meteorologici, li archivia, è un pozzo di scienza. Ebbene, ci dice che una delle stati più calde da lontano 1943 ad oggi è stata proprio quella dell'agosto scorso. In agosto solo 11 ore di pioggia e abbiamo toccato punte massime da 36 gradi. E dunque sono dati che fanno saltare subito in classifica questo mese del 2019 come una delle stati, queste stati, una delle più calde in assoluto. Chiude la mensa interna dell'asilo, troppi debiti e l'avviso in ritardo. Siamo a Monte Ciccardo, le famiglie del paese spiazzate, il comune senza sindaco perde un servizio importante. Scuole sicure, sopralluoghi per controllare i lavori eseguiti. Siamo a Mondolfo, il sindaco Barbieri a Marotta e Mondolfo a pochi giorni dal suono della campanella. Un bando per endoscopia, invece si parla di sanità a Fossombrone, l'annuncio di Federico Talè per l'assunzione del personale attualmente insufficiente. Nel frattempo le sedute a Fossombrone riprenderanno una volta al mese. Il sindaco in regione chiederà il ripristino di punto di primo intervento e lungo degenza. Poi, ancora dalla Valle del Cesano, siamo a San Costanzo. Nasce una comunità digitale tramite la banda ultralarga. Lavori entro la prossima estate. Intanto San Costanzo entra nell'anagrafe nazionale. E poi ancora l'ultima. Siamo sulla pagina ancora di Pesaro del Corriere. Qui siamo in Via Cecchi, nella zona del porto. Guardate, sono stati spostati i cassonetti, però in molti giudicano questa nuova collocazione un po' pericolosa. Protestano i residenti perché ostruiscono la viabilità e anche il passaggio. Anche qui, dal ristorante alla tavola, il cibo arriva in bicicletta. Parte oggi a Pesaro il servizio Delivero che ha scelto la città insieme ad altre otto realtà di provincia. al lavoro dieci riders per rispondere alle adesioni di una decina di ristoratori, soprattutto tra i fast food. Federica e Matteo, primo red carpet per i due finanzati, la Pellegrini congiunta al galà della Federazione Nuoto. Lui è il suo allenatore ed è anche il cugino dell'ex di Federica, ovvero Filippo Magnini. Prima di salutarci, andiamo a vedere velocemente la prima pagina del Corriere Adriatico. la mettiamo a tutto schermo così la vedete anche voi da casa. La torre panoramica di Pesaro ha le ore contate, si smonta tutto in anticipo. Un'ordinanza avvia i lavori due settimane prima del previsto. Il cantiere è da lunedì. Sull'ex AMGA si parte con il ripristino della recinzione e poi, anche qui, ordini il piatto al ristorante e ti arriva a casa in bicicletta. Qui invece siamo sul resto del Carlino. Da Fano, il Beato Antonio, svolta, trovata la bara, è il giallo di fine estate, l'abbiamo visto, la bara c'è, esiste, adesso bisognerà aprirla, ci sarà anche un magistrato che controllerà e capire con delle analisi ben precise chi effettivamente c'è all'interno di questa bara di zinco chiusa e che sta lì dagli anni 50 dove è stata spostata per volere dell'ex priore. E quindi le segnalazioni di padre Silvano Bracci, la segnalazione era vera. Ora bisognerà però capire ancora un po' meglio anche perché il percome andando a rivedere soprattutto i documenti che speriamo siano ancora all'interno di Santa Maria Nuova. Poi c'è la notizia che per quanto riguarda la questione del traffico di doping, Porcellini è stato scagionato dall'accusa più grave, ci sono le motivazioni, poi un esercito di supplenti in cattedra, per quanto riguarda la scuola, ieri ci sono state le nomine, in provincia sono il 30%. Socialisti, oggi c'è il ministro Speranza per la festa nazionale del Partito Socialista a Fano, mentre sempre per la cronaca uccido gli stranieri preso con il coltello, caccia l'uomo, un pesarese bloccato in Via Flaminia e portato in ospedale. Infine il bilancio della fiera di San Nicola di Pesaro, finale della fiera con il pienone. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, a voi tutti gli auguri di una buona giornata, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale e questo che vedete qui in sovraimpressione è il nostro numero di telefono per le vostre segnalazioni. Vi ricordo che alle 7.30 non andrà in onda la messa da Loreto, evidentemente ci sono dei problemi tecnici, quindi credo Riccardo anche domani mi pare, no? Non ci sia... No, domani dovrebbe esserci. Ok. Sì, sì, domani dovrebbe esserci. Quindi è in palinsesto. Allora, stanno risolvendo problemi tecnici con la casa, con la Santa Casa, non dipendono da noi, quindi domani dovrebbe esserci. Invece stamattina la messa la trasmetteremo alle 8.30 in diretta. Poi vi ricordo anche che lunedì c'è e riprende dopo la pausa estiva primo cittadino l'appuntamento con i sindaci a riaprire questa nuova stagione e il sindaco di Fano Massimo Serie. Appuntamento alle ore 21. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata a tutti.